...apparecchio per piedi morbidi e lisci, dotato di inserto e sfogliamento... ...signore mia, tranquillamente. Poi abbiamo... ...che renderanno ancora più gradevole il vostro... Vedete, in oro giallo, elemento centrale in oro bianco... ...a guardare. Bellissimo questo affuso, vedete, a Marchese. ...una più bella. Risparmi tempo, dedicandoti alla cura e al benessere dei tuoi piedi. ...e la funzione Relax per poter stare ancora più comodi tra gli atti. Allora, su questo grande anello. Allora io prendevo, dalla PS, un 7 carati e 60 e lo prendevo. ...e 7, quasi 44 centimetri. ...questo è Costa Smeralda. Poi abbiamo il grigio. ...esatto. Guardando l'omaglio di Antonella si impara anche la geografia. ...e poi il rosa e il giallo. Meraviglioso. ... ... ...